Siamo quasi alla conclusione del tour Siete Presente, un tour voluto e organizzato dalla presidenza della regione toscana e da giovani sì, la tappa aretina è la numero 9, tante le stanze che arrivano dagli studenti sui temi di edilizia scolastica e trasporti. Tante richieste di una palestra, il diritto di poter fare sport a scuola, di imparare a come si fa sport, abbiamo ricevuto richieste per avere spazi per riunirsi in assemblea con i propri coetanei e abbiamo notato come mancano gli spazi nei centri storici. Dalla Valdichiana arriva la richiesta di un migliore collegamento sul fronte dei trasporti, mentre dal Valdarno una struttura per l'attività sportiva. Essendo che Fogliano è un paese di provincia, le linee di trasporti non sono molte e quindi alcuni ragazzi provenienti da Monte San Savino e Signalunga trovano difficoltà ad arrivare a scuola e molto spesso hanno una linea e se la perdono non riescono a venire a scuola. Fino a questo momento non abbiamo avuto una struttura in cui poter fare attività sportive e avendo anche all'interno della scuola un liceo scientifico sportivo è stata sicuramente una situazione un po' sicuramente disagiante. E durante la mattinata è stato deciso di istituire un tavolo permanente tra provincia e consulta degli studenti. Questo tavolo ci servirà proprio per cercare di mettere insieme le esigenze reali a 360 gradi sia da parte degli dirigenti che dei ragazzi stessi. Purtroppo come sappiamo le province sono state fortemente depotenziate e l'edilizia scolastica è una di quelle criticità maggiori perché è 30 anni che non si creano nuove scuole e che non si interviene in maniera significativa. Da un paio d'anni come rappresentante dell'edilizia scolastica nella mia direzione governativa a livello nazionale per tutte le province d'Italia siamo riusciti con i governi precedenti ad avere stanziamenti certi per i prossimi 15 anni. Quindi abbiamo iniziato finalmente a fare interventi importanti però molto c'è da fare.